Sportello del Cittadino riservato allo Sportello Universo Donna, siamo in compagnia di Gianna Cavallo che è responsabile del settore Pari Opportunità e Servizi Sociali dell'Associazione Stella Maris un'attenzione forte focalizzata sulle donne a 360 gradi, coinvolgendo e cointeressando vari aspetti. Sì, e in questo progetto importante è naturalmente l'apporto e il supporto di tutta una serie di professioniste soprattutto le dottoresse psicologhe che saranno quelle che immediatamente dopo l'accoglienza interverranno. Oggi chi ci ha portato? Oggi abbiamo con noi la dottoressa Floriana Signorile, psicologa. Dottoressa Signorile, l'aspetto psicologico è chiaramente alla base di un percorso di denuncia e di un percorso ovviamente di reinserimento per superare ovviamente l'evento traumatico. Sì, sicuramente. Uno degli aspetti più importanti appunto dello Sportello Universo Donna e il supporto a livello psicologico, quindi il sostegno, l'aiuto, che può essere dato alle donne, alle donne italiane, alle donne quindi del territorio, ma anche alle donne straniere e di diverse fasce d'età, a cominciare dall'adolescente fino quindi alla donna in età adulta. L'intervento psicologico quindi sarà un intervento basato soprattutto sul superamento del momento di crisi e quindi il raggiungimento dell'empowerment, cioè di un benessere psicofisico e quindi soprattutto anche verranno dati degli strumenti a livello cognitivo e comportamentale per poter quindi aumentare le risorse personali della persona e arricchire quelle che sono le sue, la sua autostima e la sua auto-efficacia. Le richieste d'aiuto possono essere numerose. Lo Sportello in questo momento si sta focalizzando la sua attenzione su quella che è appunto purtroppo la grave situazione della donna che subisce violenza. Ma lo Sportello Universo Donna non è solo questo. A livello psicologico verranno infatti accolte richieste d'aiuto diversificate, tra cui anche per esempio donne che hanno difficoltà nella genitorialità, quindi che hanno difficoltà nella crescita dei propri figli nelle diverse età, oppure donne con disturbi alimentari o donne anche in gravidanza per accompagnarle alla nascita di un nuovo legame col proprio figlio e prevenire quella che è la depressione postpartum. Grazie. 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 Grazie.